Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. Il presidente della regione Giovanni Toti, che è anche la delega al bilancio, questa mattina in consiglio regionale ha presentato la relazione relativa ai provvedimenti finanziari e di bilancio. Toti ha tracciato nel dettaglio il quadro della situazione socio-economica, evidenziando segnali positivi sul fronte occupazionale. Sentiamo. Molti punti qualificanti di questo bilancio sostegna tutte le fasce deboli della popolazione con ulteriori interventi come l'agevolazione fino alla cancellazione di ogni affitto per gli ultra 75 anni che alloggiano in una casa popolare o per i giovani che vengono a studiare nella nostra città dove ci saranno delle case date a loro a un canone ultra agevolato. Poi è un bilancio che continua a puntare moltissimo sugli investimenti pubblici e privati perché in un clima italiano di debolezza dei consumi e con una bilancia commerciale che rischia di fare fatica nei prossimi anni, la crescita degli investimenti pubblici e privati è necessariamente una voce di bilancio fondamentale. è una legge di bilancio che continua a contenere il debito della regione e dal punto di vista della spesa corrente che semplifica tutte le procedure, comprese ad esempio quelle per ristrutturare gli stabilimenti balneari colpiti dal maltempo che non solo vedranno semplificazioni burocratiche per la richiesta di permesso per poter fare i lavori necessari ma vedranno anche l'aumento della loro concessione fino a 15 anni per avere il tempo ovviamente di ripagare gli investimenti fatti. È una legge che va in coerenza con quanto abbiamo fatto fino adesso credo possa essere un ottimo esempio di quello che serve a una regione o a una nazione per crescere soldi spesi in investimenti, opere pubbliche, difesa del suolo, difesa dell'ambiente, investimenti privati supportati i waterfront di tutte le nostre principali città costiere, quello di Spezia, il grande waterfront di Renzo Piano su Genova il recupero di erifici storici come l'NBIC, il waterfront di Savona, la rigenerazione urbana la riqualificazione dei quartieri di edilizia popolare come la riqualificazione della grande diga di Begato uno degli esempi di una delizia popolare deteriore del nostro paese e da un lato il contenimento della spesa corrente quindi evitare di lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti debiti in più e ancora semplificazioni per tutte le pratiche che riguardano i cittadini abbiamo cominciato con le esenzioni dei bolli auto per le auto ibride e elettriche abbiamo continuato con l'esenzione dalle addizionali IRPEF delle famiglie che fanno un figlio abbiamo continuato ulteriormente con l'esenzione dalle addizionali regionali per le famiglie numerose a basso reddito quindi supportare chi è rimasto indietro, aiutare le imprese ad investire e investire in elementi qualificanti di spesa pubblica come la difesa del suolo, la difesa dell'ambiente e il dissesto del gioccio la regione ha varato un bando di finanziamento da 61 mila euro a favore degli apicoltori si tratta di fondi destinati all'acquisto di api regine, sciami e arnie il servizio è stato approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura Stefano Mai un bando da 61 mila euro per il finanziamento degli interventi nel settore apistico per l'acquisto di attrezzature, arnie, api regine e sciami per la campagna 2018-2019 Mai ha evidenziato che con questo bando la regione intende sostenere un settore importante per l'entroterra possono fare domanda le associazioni di apicoltori con un numero di soci superiore al 10% del totale degli apicoltori liguri registrati e anche gli apicoltori singoli in possesso di almeno 20 alveari denunciati ciascun beneficiario individuato da un centro di assistenza in agricoltura potrà presentare una sola domanda l'importo minimo complessivo di contributo richiesto non può essere inferiore a 300 euro e le domande devono essere presentate entro il 25 febbraio 2019 e indirizzate al settore politica agricole della regione Alcuni pescatori hanno avvistato ieri sera a largo del porto vecchio di Sanremo il corpo di un uomo il cadavere che stando a una prima ricostruzione apparterebbe ad un uomo di 79 anni del quale era stata denunciata la scomparsa è stato recuperato dai militari della motovedetta della Guardia Costiera intorno alle 22 ed ora la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria Ancora brutte notizie per l'imperiese dall'indagine sulla qualità della vita nelle province italiane realizzata dal sole 24 ore la provincia di Imperia spicca a livello nazionale soltanto per il buon clima La provincia di Imperia per quanto riguarda la qualità della vita sale soltanto di un gradino nel 2017 rispetto al 2016 e passa dal settantesimo al sessantanovesimo posto della graduatoria nazionale che vede in fondo il centosettesimo posto vivo Valencia e in vetta Milano e Bolzano La particolare classifica è stata stirata ancora una volta dal sole 24 ore il maggiore quotidiano economico italiano e espressione di confindustria Nell'imperiese le cose non vanno molto bene per quanto riguarda l'occupazione la presenza di laureati e di giovani imprenditori e anche per l'anagrafe La provincia di Imperia risulta infatti nella parte bassa della graduatoria per questi aspetti e si contraddistingue come in passato per essere una provincia molto anziana con un alto tasso di mortalità Inoltre nonostante l'alto numero di imprese registrate che la pone addirittura a sesta in Italia si trovano ben poche imprese innovative Va leggermente meglio invece per quanto riguarda i parametri legati a giustizia e sicurezza e anche a cultura e tempo libero L'unica cosa per cui la provincia di Imperia può vantare però il primo posto a livello nazionale è il clima Insomma per consolarci ormai non ci restano che il sole e il mare Domani a Imperia un nuovo incontro in provincia per la pista ciclabile L'assessore regionale Marco Scaiola si siederà al tavolo con gli amministratori dei comuni di Valle Crosia e San Lorenzo al Mare e i vertici di FS Sistemi, i particolari in un servizio Nuovi tratti di pista ciclabile per completare il progetto voluto dalla regione di realizzare un unico percorso ciclopedonale di ben 40 km nel Ponente Ligure Progettazione e realizzazione di importanti tratti che andranno a legare i diversi tratti già realizzati o di prossima esecuzione sono i temi al centro degli incontri previsti per domani nella sede dell'amministrazione provinciale di Imperia I comuni coinvolti negli incontri sono Valle Crosia e San Lorenzo al Mare Valle Crosia sta progettando il tratto di ciclopedonale sul proprio territorio già finanziato con fondi comunitari in continuità con il tracciato recentemente inaugurato tra Ventimiglia e Camporosso per connettere Ventimiglia con Bordighiera San Lorenzo al Mare dove ha inizio il percorso della ciclabile di area 24 ha come obiettivo il completamento del tratto tra la ex stazione ferroviaria e il confine con Imperia agli incontri parteciperanno insieme all'assessore regionale all'urbanistica Marco Scaiola e rappresentanti nazionali di FS, sistemi urbani e tecnici della regione tutto il percorso è inserito nella ciclopedonale tirrenica che collegherà Ventimiglia a Roma e per la quale sono in approvazione importanti distanziamenti per la progettazione e la realizzazione dei tratti più significativi Sinistra in Comune con Lucio Sardi critica l'esposizione del sindaco di Imperia Claudio Scaiola circa la visione futura del porto turistico di Imperia per Sardi infatti è necessario pensare a un ridimensionamento del progetto per scongiurare che un domani possa nuovamente essere chiamato in causa qualche privato vediamo La lunga conferenza stampa con cui Claudio Scaiola ha annunciato le linee di indirizzo sul porto turistico di Imperia sembra estrapolata dalla sceneggiatura di un film grottesco è quanto afferma Lucio Sardi di Sinistra in Comune e Sinistra Italiana contestando in particolare il fatto che il sindaco di Imperia non abbia fatto accenno o espresso giudizi sul disastro che ha portato al fallimento della società del bacino turistico quanto all'annuncio di Scaiola circa il mantenimento in mano pubblica della gestione del porto per Sardi questo non sorprende in quanto è l'unica via percorribile ma l'esponente della sinistra si dice sconcertato dalla mancanza di un progetto politico-amministrativo per il completamento del porto che riveda quello faraonico precedente progetto senza il quale, dice Sardi, non si può ottenere affiancandolo a un piano finanziario di sostenibilità il rilascio di una concessione demaniale di più lunga durata alla società pubblica che dovrà realizzarlo Lucio Sardi evidenzia quindi che tali carenze e approssimazioni fanno temere che un domani si possa dichiarare non percorribile una gestione pubblica del porto turistico e non è quindi scongiurato il rischio che il bacino possa tornare a essere merce di scambio per fallimentare i progetti amministrativi ci fermiamo per una breve pausa restate con noi Natale non è solo un periodo di allegria e attesa secondo gli esperti in molti soggetti l'arrivo delle feste natalizie può provocare stati di depressione e malumore una sorta di effetto grinch che porta a irritazione verso queste festività sentiamo se le musiche natalizie risuonano da settimane nei negozi con case e strade illuminate a festa il periodo di fine anno non è per tutti di gioia e attesa ma può innescare depressione, malumore, spossatezza e irritabilità insomma una sorta di effetto grinch dal personaggio di fantasia che detesta il Natale a rischiare di risentire in modo negativo del clima natalizio sono in particolare due tipologie di persone spiega l'ADN Cronos Maurizio Pompili professore di psichiatria direttore della scuola di specializzazione in psichiatria all'Università Sapienza di Roma in un caso, spiega Pompili, si tratta di chi è affetto da Seasonal Affective Disorder disturbo che insorge nel tardo autunno-inverno e si protraia a primavera e può ripetersi nel corso degli anni il freddo e la riduzione delle ore di luce possono indurre a stati depressivi peggiorati dalla dimensione di euforia altrui e dalle aspettative eccessive legate alle feste natalizie non ci si sintonizza sulla lunghezza d'onda degli altri e si percepisce una sorta di frattura con la società non solo, a destabilizzare è anche la spinta a spendere spesso più del dovuto l'aspettativa legata alle feste e l'esasperazione consumistica rischiano di tramutarsi in un boomerang cosa fare? il consiglio è di attenuare l'esasperazione e tornare a vivere il Natale in una dimensione più intima e forse meno esibita e consumistica suggerisce l'esperto insomma l'effetto Grinch non è solo fantasia la rassegna alla riviera dei libri di Cervo arriva anche a Imperia con la tappa del premio Campiello domenica 23 dicembre alle 17 infatti all'auditorium del Museo Navale del Capoluogo sarà presente la vincitrice del premio Campiello 2018 Rossella Postorino con il suo libro Le assaggiatrici vediamo Assessore Rogero La riviera dei libri Cervo e Mludinchiostro sbarca anche ad Imperia sono ben quattro gli appuntamenti che sono in programma nel Capoluogo è così? Sì esatto è così è un bellissimo progetto che abbiamo accolto con molto entusiasmo Cervo ha questa tradizione di incontri letterali di altissimo profilo e sono venuti a proporre anche alla città di Imperia di aggiungersi in questo calendario e non posso che ringraziare Francesca Rotta Gentile che è qua con me ma anche a Nina Elena anche la dottoressa Calcio ma tutto lo staff di Cervo che ha deciso di includere Imperia e poi Sanremo in questo nuovo progetto è un nuovo progetto in cui noi crediamo molto abbiamo deciso di dare una location anche a questo progetto che appunto è il Museo Navale di Imperia un museo navale che quest'anno è più che mai ricco di un'offerta culturale diversificata interessante e di altissimo profilo quindi dal teatro ai libri e ne siamo molto contenti Primo appuntamento Partiamo direi con un'eccellenza tra l'altro del tutto autoctona per cui ne andiamo doppiamente fieri sarà nostra ospita Rosella Postorino vincitrice del primo campiello con le assaggiatrici che tra l'altro suggerisco di leggere perché è un libro bellissimo e siamo molto orgogliosi perché non tutti vincono il campiello quindi già solo per quello si tratta di una penna importante della lettura tour italiana e poi è una ragazza nata no ma cresciuta in pere che si è formata tra i banchi di scuole imperiesi quindi io credo che anche per i ragazzi della scuola sia interessante vedere come una di loro ha fatto poi una carriera così importante quindi mi auguro che ci siano anche tanti giovani che tra l'altro potranno partecipare anche ottenendo dei crediti formativi perché questo progetto il bello di questo progetto della riviera dei libri che parte proprio da Cervo è quello di unire anche l'aspetto scolastico quindi un progetto che unisce dai banchi di scuola fino ad ogni età Imperia ne è orgogliosa e siamo veramente non vediamo l'ora di poter accogliere Rossella Postorino quindi quando sarà Francesca la Togentile questo appuntamento con Rossella Postorino il primo appuntamento sarà proprio domenica 23 dicembre una data natalizia alle ore 17 al museo navale ingresso libero fino ad esaurimento posti e crediti formativi non soltanto per gli alunni ma anche per gli insegnanti Sì, certamente anche questa è una tradizione della rassegna e quest'anno ancora di più perché c'è stata la possibilità di inserire tutti gli incontri formativi sulla piattaforma Sofia del Ministero dell'Istruzione e perciò è importante che tutti i docenti non solo della provincia di Imperia ma anche da tutta Italia ci auguriamo possano iscriversi entro il 21 dicembre su questa piattaforma cliccando Cervo in blu nuova edizione troveranno tutti gli incontri anche poi quelli futuri perché la rassegna arriverà poi fino a maggio Si è svolta ieri mattina una lezione gratuita di autodifesa organizzata dal movimento politico Futura Sanremo con il candidato a sindaco della Città dei Fiori Alberto Pezzini Lo stage è stato tenuto dagli istruttori Sabina Camarda e Davine Linza Alberto Pezzini candidato a sindaco con il movimento Futura Sanremo che cosa c'entra questo corso di autodifesa con la politica? C'entra perché è un corso di educazione civica almeno noi stiamo interpretando il nostro movimento la nostra campagna elettorale come qualcosa che dia e abbia la possibilità di donare qualcosa in più alla cittadinanza le campagne elettorali sono bellissime ma debbono contenere finalmente qualcosa di nuovo per noi un corso di autodifesa è un qualcosa che si aggiunge ma che soprattutto può insegnare in termini puri anche di educazione civica molte persone si sono riunite qui questa mattina e insomma anche scherzando si può arrivare a delle soluzioni in termini di difesa certamente noi abbiamo anche la fortuna di avere dei maestri illuminati che sono un po' versatili in molte discipline appunto di autodifesa e chiaramente un sorriso aiuta molto è un po' lo stesso sorriso lo stesso atteggiamento mentale che noi stiamo adottando nella nostra campagna elettorale noi ci stiamo divertendo e cerchiamo anche di supplire i nostri modestissimi mezzi finanziari con la nostra fantasia ma soprattutto con la proposizione di idee concrete l'importante è ricordarsi che quando saranno finite le campagne elettorali resteranno le persone e quello che sono riusciti a realizzare è stato celebrato oggi a Genova il precetto natalizio per le forze armate ad ufficiare la funzione tenutasi nella cattedrale di San Lorenzo è stato il cardinale Angelo Bagnasco vediamo è stato celebrato questa mattina a Genova nella cattedrale di San Lorenzo la funzione religiosa in occasione del precetto natalizio per tutte le componenti militari del comando regione Liguria la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal cardinale di Genova Angelo Bagnasco e ha coinvolto numerose rappresentanze civili e militari del territorio tra cui anche una rappresentanza delle associazioni combattentistiche ed arma durante l'omelia il cardinale nel ringraziare le forze armate per il loro servizio che mette spesso a rischio la vita per il rispetto della legalità e la costruzione della pace ha voluto ricordare il profondo legame che unisce le diverse istituzioni militari e civili al termine delle celebrazioni l'ammiraglio Giorgio Lazio ha rivolto a tutti i presenti un augurio per le festività dedicando un pensiero a tutto il personale militare impegnato sia in ambito nazionale che internazionale costretto alla lontananza dalle proprie famiglie per l'assolvimento del proprio dovere al servizio della patria e della comunità con una rete di Lobosco la Sanremese ha fermato sull'1 a 1 la corsa del casale con il contemporaneo 2 a 2 dell'Ecco che era impegnato contro il Licorna e rimangono ancora invariate le distanze in vetta alla classifica sentiamo con una rete di Lobosco al novantesimo la Sanremese ferma la corsa del casale riduce da 6 vittorie consecutive in campionato in piena corsa playoff gara difficile in terra piemontese con la consueta emergenza in difesa per Mister Lupo che deve ancora rinunciare a Giubilato e Castaldo esordio dal primo minuto per l'attaccante Lella arrivato in settimana dall'Ecco sfida avara di emozioni nelle prime battute poche le occasioni da una parte dall'altra solo normale amministrazione per i due portieri la prima occasione degna di nota e per il casale che al 36esimo su azione di calcio d'angolo va vicinissimo al vantaggio con Cintoi che manca il colpo decisivo a pochi metri dalla linea di porta e la sfera finisce sul palo passano 4 minuti della Saremese a sfiorare il gol cross tagliato di rotolo perfetta incornata di Spinosa e decisivo intervento di console che devia la palla sul montante i biancoazzurri pareggiano il conto dei legni anche nella ripresa non fioccano le occasioni da rete e la sfida si accenderà solo nel finale scalzi prova il mancino del limite la sfera viene deviata e un difensore nero stellato rinvia come può grande occasione per il casale con K.I. che supera Manis ma fiore abilissimo a salvare sulla linea si mette in mostra anche Brugni che al termine di un'azione personale conclude di poco al lato della destra del portiere di casa al minuto 85esimo la sfera emese porta a due il conto dei pali con la conclusione potente di Spinosa che si stampa sul legno passa un minuto e il casale trova il vantaggio con il diagonale preciso di Mazzucco che si insacca alle spalle di Manis ma come noto la sfera emese non molla mai e al novantesimo sua azione da rimessa laterale trova il pari con lo Bosco alla sua prima gioia dopo il ritorno in Biancazzurro c'è ancora tempo per un brivido in pieno recupero con il casale che colpisce la traversa su colpo di testa da calcio d'angolo e Manis che salva sulla ribattuta di Cardini con il pareggio e il contemporaneo 2 a 2 dell'Ecco contro il Ligorna rimangono ancora invariate le distanze in vetta alla classifica i Lombardi restano al primo posto con 5 lunghezze di vantaggio sui Biancoazzurri accorcia il Savona vittorioso con il Chieri al terzo posto a meno uno dalla Sanremese vittoria in casa per una rete a zero dell'Imperia impegnata domenica nella sfida con il Ventimiglia la sintesi dell'incontro in un servizio la quattordicesima e ultima partita casalinga del 2018 ha visto l'Imperia impegnata in casa contro il Ventimiglia con un manto del Nino Ciccione piuttosto pesante per via della pioggia che ha accompagnato tutta la gara la prima rete è unica e arrivata al decimo del secondo tempo su calcio di rigore concesso per atterramento in area di Faedo della trasformazione dal dischetto se ne è incaricato Costantini che ha portato così a otto i suoi centri stagionali e garantito la vittoria domenicana all'Imperia appunto con l'unica rete della partita da segnalare nel corso del match un rigore dubbio non concesso dall'arbitro Guglielmo Noce della sezione di Genova per atterramento in area di Laera al diciassettesimo del primo tempo e al trentatesimo di gioco un bel colpo di testa di Laera deviato in angolo da Scognamiglio al ventesimo della ripresa è sempre stato Scognamiglio a respingere con il pugno un insidioso tiro di Faedo decentrato sulla fascia sinistra minore impegno per il portiere di casa trucco che ha visto finire alto sulla traversa l'unico tentativo del Ventimiglia partito dai piedi di Allegro al ventiduesimo minuto di gioco l'angolo di Daniele e la corte ci parla oggi di calcio e tifoserie è più che mai di attualità parlare di tifo o meglio di tifoseria sportiva dal greco l'origine di tifo significa febbre il sostegno entusiastico di una compagine sportiva piuttosto che di un attore di un cantante di un personaggio del mondo dello spettacolo è certo che lo sport porta a una tifoseria diversa soprattutto di fronte alla possibilità di vincita o di perdita di una squadra piuttosto che di un singolo atleta è qui che scatta la differenza che rende diversi uomini e donne di fronte all'amore troppo spesso smodato nei confronti dei loro beniamini così situazioni difficili da gestire si verificano in ogni parte del mondo ma in Italia forse siamo tra i primi soprattutto di fronte a una palla inseguita da opposti schieramenti la tifoseria organizzata è quella che più di ogni altra preoccupa ma anche i solitari fanatici pronti alla violenza che agiscono isolati non sono da sottovalutare lo sport si dovrebbe intendere parlando di una partita di calcio come avversari onesti e sinceri che la violenza non dovrebbero mai né diffonderla né praticarla ma purtroppo non è così e troppe volte c'è scappato anche il morto ma aberrante è quanto accade sui social dove oltre a chi inneggia l'operato delle forze dell'ordine c'è chi vorrebbe vederli sparare e fare in qualche modo assurda giustizia e quanto è accaduto a Roma qualche sera fa e ciò dovrebbe farci ulteriormente meditare dopo la partita Lazio è in track un tifoso tedesco è stato aggredito da ragazzi incappucciati erano nella zona di Trastevere sono giunti i carabinieri accolti da bottigliate i militari hanno riportato l'ordine dopo qualche minuto senza sparare però tirando fuori dalla fondina la pistola ma in molti hanno criticato dando sfogo sui social all'uso delle armi avrebbero dovuto per molti sparare ecco la tifoderia le tifoserie contrapposte chi vuole la violenza e chi chiede che la violenza venga bloccata senza farne uso ancora una volta vi chiediamo occhi aperti per ricordare che si può essere tifosi senza essere aggressivi e prepotenti o brutali è il momento di dare uno sguardo a Riviera Iventi subito dopo la situazione Cantieri sull'autostrada dei Fiori a Riviera Iventi di seguito indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona confine di Stato direzione Italia careggiata sud tra Ventimiglia e Bordighera careggiata chiusa con doppio senso sulla careggiata opposta per adeguamento galleria Siestro dal 17 dicembre al 21 dicembre tra Arma di Taggia e Imperia Ovest careggiata chiusa con doppio senso sulla careggiata opposta per adeguamento gallerie Poggi e Barbarossa e rifacimento giunto vi adotto poi Texelli dal 17 dicembre al 21 dicembre tra Albenga e Borghetto Santo Spirito chiusura della corsia di marcia per installazione attenuatori d'urto dal 17 dicembre al 21 dicembre direzione Francia careggiata nord tra Finale Ligure e Pietra Ligure careggiata chiusa con doppio senso sulla careggiata opposta per adeguamento gallerie Bracciale e Monte Grosso dal 17 dicembre al 21 dicembre e adesso il momento delle previsioni meteo domani martedì 18 dicembre al mattino possibili nebbie o foschie lungo i versanti padani in dissolvimento nel corso della giornata altrove lungolosità irregolari in aumento con possibili deboli precipitazioni tra il pomeriggio e la sera sui versanti costieri di centro ponente umidità su valori medio-alti venti deboli o moderati settentrionali su centro ponente da sud-est altrove mare in calo poco mosso su tutti i settori dopo domani mercoledì 19 dicembre nuovo intenso peggioramento con piogge diffuse e nevicate a bassa quota a specie dal pomeriggio umidità su valori medio-alti venti in rinforzo tendenti a disporsi in circolazione ciclonica ma è poco mosso al mattino tendente ad aumentare fino a mosso il telegiornale termina qui grazie per essere stati con noi e buona serata Manovra totale accordo Conte Salvini Di Maio a patti pilotati accusato il presidente della regione Calabria Battisti è introvabile La manovra tornerà domani in commissione bilancio al Senato dove si riprenderà l'esame degli emendamenti le coperture assicurano fonti di Palazzo Chigi ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit-pill offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione dalla Lega intanto assicurano che c'è totale accordo tra il presidente del Consiglio Conte e i due vice premier Salvini e Di Maio che afferma la manovra rimette l'Italia in carreggiata dal vertice un ottimo risultato Abuso d'ufficio aggravato falso corruzione e frode in pubbliche forniture questa la pesantissima accusa che la procurante mafia di Catanzaro ha contestato oggi al presidente della regione Calabria Mario Oliverio eletto nelle file del PD destinatario di un provvedimento d'obbligo di dimora la polizia federale brasiliana ha diffuso in tutto il paese una ventina di foto segnaletiche di Cesare Battisti elaborate al computer in modo da mostrare tutti i possibili travestimenti con occhiali cappelli e barba finta che potrebbe usare durante la sua fuga l'ex terrorista dei PAC infatti latitante da quando la polizia federale è andata a prelevarlo per la richiesta di un mandato di cattura preventivo che ha aperto la strada al decreto di estradizione la Juventus trova l'Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League la Roma pesca il porto come stabilito dal sorteggio effettuato oggi a Nyon quartier generale UEFA e questa era la nostra ultima notizia per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre alla sito adncronos.com arrivederci ancora una volta dalla redazione web a Nyon a Nyon per l'Ambore